Ieri mi ha telefonato un cuore solitario, mi ha detto pronto, Alberto Libare e Sanamore Siciliano, ci ho detto io sì, sono io, Alberto Sanamore Siciliano, dimmi tutto. Ci ha detto mio, dice io sono Leonardo, dimmi Leonardo di che cosa hai bisogno, Alberto mio mi deve aiutare, dimmi, sbilanci, ti parla pure, che cosa è successo, ci ho detto io. Ci ha detto io sto cercando l'anima gemella, sto cercando un uomo che finalmente mi accetta per quello che sono, ci ho detto Leonardo che problemi hai, io sono una bellissima ragazza, di presenza sono favolosa, solo che purtroppo ho un piccolo difetto, ci ho detto io Leonardo che difetto hai, parla pure. Ci ho il difetto, dice che nell'intimità quando apro le cosce, dice faccio puzza di cipolla, nonostante, dice che mi metta, dice, più deodorante possibile per nascondere questa puzza, però la puzza si sente lo stesso agli uomini e appena sentono questa puzza scappano. Ci ho detto io a Leonardo, scetto la puzza di cipolla, è grave, agli uomini non piace, però io posso risolvere il tuo problema. Io ho un bel ragazzo di cipolla che si chiama Francesco e ha vent'anni, che è singolo e non ha mai avuto una ragazza, non aspetta altro, lui che io, ci presento e ti faccio vedere che tu trovi la tua anima gemella. Mi ha detto Leonardo grazie a Bertomio, meno male che ci sei tu. Finita la discussione ho telefonato a Francesco, ci ho detto Francesco vedi che ti ho trovato l'anima gemella, ho pensato io tra Francesco e Leonardo, giustamente spunta la coppia, spunta l'amore, faccio un'opera di bene. Francesco mi ha detto che è una bella ragazza, sicura che è una bella ragazza, ci ho detto io Francesco, vedi che è una ragazza stupenda. Francesco mi ha detto, dice va bene, allora ci sto. Dopodiché, siccome Francesco, come ripeto, ha vent'anni che non ha una ragazza, quello che si va a preoccupare della puzza, questa famiglia c'è. Perché? Peccio, presento io a Francesco e a Leonardo. Loro due si conoscono, si frequentano e vanno d'accordo e si forma la coppia. Se non che, nel momento in cui Leonardo si trova in indivinità con Francesco, che cosa succede? Leonardo apre le cosce e ci dice, Francesco dimostrami che mi ami, dimostrami quanto ti piaccio. Francesco a me mette mano, ora ci penso io. E Francesco si dà da fare. Se non che, dopo dieci secondi appena, Francesco si blocca. E sta così, Leonardo lo vede. Francesco mio, che cosa ti è successo? Perché ti sei bloccato? Che hai sentito? Puzza di cipolla? Francesco dice, no mia cara, tutto a posto. Solo che per un attimo mi sono bloccato perché mi sono cominciato a lacrimare gli occhi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.